Legge di stabilità al confronto con il governo CISL, CGL e Will chiedono un'inversione di manovra. Il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, rilancia. Il lavoro si crea facendo ripartire la produzione industriale. Importanti novità per le controversie di lavoro. Il Senato approva l'emendamento al decreto giustizia che ora passa alla Camera. Sentenze più rapide e costi più contenuti. Raineri, un ulteriore riconoscimento dell'importanza della contrattazione. Frette chiude 24 punti vendita in tutta Italia e annuncia 81 esuberi. La Fisaskat chiede ricorso a strumenti alternativi ai licenziamenti, ricollocazione, riqualificazione interna e accesso agli ammortizzatori sociali. Settore ippico, fronte compatto sindacati imprese contro il mancato pagamento dei corrispettivi. A rischio 300 dipendenti degli ipodromi di Milano, Roma e Napoli. La Fisaskat si superino le difficoltà burocratiche e si evita il fallimento dell'intero comparto. Bentornati al TG Lab. Arriva a carte fatte il confronto governo-sindacati sulla legge di stabilità 2015. 36 miliardi di euro e a tanto ammonta la finanziaria varata dall'esecutivo. Intervento che nel frattempo ha incassato la prima promozione dall'Unione Europea. La CIS conferma il giudizio critico sulla manovra, che va cambiata e migliorata, ribadito il segretario generale Anna Maria Furlan. Occorrono risposte per i pensionati e per i contratti del pubblico impiego. Oltre a nuovi investimenti, ha un'inversione di marcia sull'innalzamento della tassazione sui fondi pensioni, sulle modalità di erogazione del TFR e sui patronati. Servizio gratuito per i cittadini, ha sottolineato Furlan. Un taglio lineare di 4 miliardi, ha poi fatto notare in tema di spending review, potrebbe tradursi con nuove tasse e meno servizi per i cittadini. Per Anna Maria Furlan si rende necessario approntare il dialogo sociale sui decreti attuativi del Jobs Act, come avviene in tutta Europa. Per la CIS, tra le priorità da affrontare, è anche il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali nell'ambito della revisione complessiva del sistema dei sussidi universali a completamento della normativa del Jobs Act. L'auspicio della CIS è che il governo accolga le rivendicazioni dei sindacati. Abbiamo chiesto un nuovo incontro, ha concluso il segretario generale della CIS. Vedremo se il governo ci convocherà e si accoglierà tutte o in parte le nostre richieste. Ed ora passiamo ad un'importante novità inserita nel decreto giustizia in materia di controverse di lavoro. I dettagli nel servizio di Paola Mele. Ridurre il contenzioso civile anche nella materia giuslavoristica. E questa è la finalità del maxiemendamento al disegno di legge di conversione del decreto giustizia approvato dal Senato. Il maxiemendamento stabilisce l'estensione del trasferimento dalla sede giudiziale alla sede arbitrale dei procedimenti civili di primo e secondo grado sui diritti relativi ai contratti collettivi di qualsiasi livello, inclusa la contrattazione territoriale ed aziendale. La nuova procedura si applicherà a condizione che il contratto contempli e disciplini la soluzione arbitrale delle controverse di lavoro attraverso la clausola compromissoria. La Fisaskat accoglie di buon grado l'intervento legislativo che estende l'applicazione del collegato lavoro approvato nel 2010 e che ha introdotto con le procedure di certificazione e conciliazione d'arbitrato nuove tutele per i lavoratori, offrendo loro l'opportunità di percorrere strade alternative alla giustizia civile nella risoluzione delle controverse di lavoro, riducendo i tempi di attesa e gli eccessivi costi, molto spesso pregiudiziali all'avvio delle vertenze. Da tanti anni la Fisaskat sostiene che, soprattutto attraverso la contrattazione, occorre creare meccanismi di conciliazione prima, ma anche di arbitrato laddove occorre sulle controverse di lavoro, perché riteniamo che in questo modo si vadano a soddisfare delle esigenze dei lavoratori, ma anche delle imprese dall'altra parte. Risolvere una controverse di lavoro in tempi rapidi significa tutelare meglio le persone, affermare di più i diritti e non consentire ad un iter infinito di confronto come è in questo momento in atto, che vede la risoluzione delle controverse di lavoro, magari dopo anni, da quando queste nascono. I sistemi di arbitrato, che abbiamo sperimentato anche in qualche accordo contrattuale già negli anni passati, dovranno essere resi permanenti, resi possibili dalla normativa di legge, ma resi permanenti anche attraverso la contrattazione e soprattutto valorizzando in questo ambito il ruolo della bilateralità che dovrà essere dedicata proprio a questo tema importante dei rapporti di lavoro. Ricollocazione, riqualificazione interna ed esterna, accesso agli ammortizzatori sociali ed eventuali incentivi all'esodo sono le richieste della FISA-ASCAT presentata alla direzione della Frette, l'azienda leader della produzione di biancheria di lusso, in occasione del primo incontro sulla procedura di mobilità che ha coinvolto 81 lavoratori di 24 punti vendita presenti sul territorio e prossimi alla chiusura. La direzione aziendale ha illustrato ai sindacati la scelta di mantenere esclusivamente i punti vendita che si rivolgono al settore lusso e di sviluppare la rete vendita verso il mercato russo, cinese e nelle altre economie emergenti. La FISA-ASCAT, nel tentativo di ridurre al minimo l'impatto della riorganizzazione aziendale sui lavoratori, ha dichiarato la disponibilità a verificare la fattibilità della proposta presentata anche attraverso un intervento del Ministero del Lavoro. Ed ora occupiamoci del settore ippico da anni in grave difficoltà. Hanno formato un fronte compatto sindacati e imprese uniti contro il mancato pagamento dei corrispettivi da parte del Ministero dell'Agricoltura. Sono oltre 300 i lavoratori a rischio degli ipodromi di Milano, Roma e Napoli che attendono lo sblocco delle somme stanziate dal di Castero. Una situazione non più tollerabile che potrebbe avere pesanti e disastrose ricadute anche sull'indotto. Hanno stigmatizzato le federazioni di categoria FISASCA CIS, SLCGL e Wilcom. Si eviti il fallimento dell'intero comparto, hanno aggiunto le tre segreterie. Si superino le difficoltà burocratiche e si sbloccino i fondi già stanziati al più presto per sostenere un comparto in difficoltà. Hanno chiesto i sindacati che si dichiarano pronti ad intraprendere iniziative di mobilitazione. Tante le notizie che giungono questa settimana dai territori. A Modena è stato proclamato uno sciopero del commercio sabato 1 novembre. FISASCAT, FILCAMS e WILTUX protestano contro la liberalizzazione degli orari commerciali che permette l'apertura anche nella festività di ogni Santi. Lo sciopero del primo novembre, così come quelli già previsti il 25 e il 26 dicembre 2014 e del primo gennaio 2015, si rendono necessari nel sostenere la battaglia per l'affermazione della civiltà e difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Invece, in Trentino Alto Adige, a Bolzano, i dipendenti di uno dei due punti vendita Euronics hanno scioperato e organizzato un presidio contro la prevista chiusura del negozio di Corso Libertà. Nel frattempo, nulla si sa del futuro dell'Euronics del Centrum. La FISASCAT ha chiesto un incontro urgente con la direzione aziendale. Trasferiamoci ora in Umbria, Perugia, dove Liomatic, azienda Umbra leader nel settore dei distributori automatici, ha confermato l'intenzione di licenziare 151 lavoratori. Nel corso di un incontro con l'azienda, i sindacati, tra cui in prima linea la FISASCAT-CISL, hanno contestato i licenziamenti ritenendoli immotivati o motivati in modo generico e soprattutto eccessivi nel numero visti gli indicatori economici aziendali. Il bilancio aziendale 2013, infatti, ha chiuso in attivo. Altri incontri sono in calendario. In Sicilia, a Catania, invece, i lavoratori dei supermercati, i mercati generali, gruppo Sicilbon, hanno deciso di proseguire lo sciopero. La protesta dei lavoratori, affiancati dai sindacati, prende avvio dalla decisione dell'azienda di mettere in mobilità 66 dipendenti. La direzione aziendale non ha sentito l'esigenza di aprire un dialogo. Da qui la decisione di proseguire la protesta. In Puglia, a Bari, si è svolto il seminario FISASCAT sul tema bilateralità, welfare contrattuale e contrattazione. L'iniziativa è dedicata ai quadri, operatori e dirigenti delle strutture territoriali delle regioni Puglia, Basilicata e Calabria. L'obiettivo è di implementare il percorso formativo utile all'aggiornamento dei delegati e degli operatori interessati sul tema del welfare contrattuale. Alla giornata di studi è partecipato anche il segretario generale della FISASCAT, Pierangelo Raineri. Per la nostra rubrica delle notizie dall'estero segnaliamo la mobilitazione di Eurocadre, il sindacato che rappresenta 6 milioni di dipendenti, in particolare dirigenti e quadri in Europa. Eurocadre sta monitorando i lavori per il varo della nuova direttiva europea in materia dei segreti aziendali. Eurocadre considera la protezione dei segreti commerciali importante, ma la direttiva deve essere chiara, equilibrata e definibile. Nella proposta, infatti, vi sarebbero alcuni elementi fondamentali che mancano, non si darebbe conto della situazione e degli interessi dei dipendenti, soprattutto se sono lavoratori dell'area professionale ed esecutivi. Ci salutiamo e vi ricordiamo che è possibile consultare il TGLab anche su Facebook e YouTube e che potete seguire le notizie in tempo reale su Twitter at FISASCAT. Per segnalazioni e suggerimenti potete scriverci all'indirizzo mail redazione tglab-fisaskat.it Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. La FISASCAT-CISL tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario, turismo e servizi, garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La FISASCAT-CISL, attraverso la contrattazione, sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione professionale continua. All'indirizzo www.fisaskat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La FISASCAT insieme alla Felsa-CISL ha dato vita alla FIST, la Federazione Italiana dei Sindacati del Terziario, per sviluppare una tutela a 360 gradi per i lavoratori dipendenti, autonomi, atipici e somministrati. La FISASCAT, la Felsa e la FIST sono il tuo sistema di tutela. Grazie a tutti per la